Anatomia, articolazioni, approfondiamo in questa lezione nelle articolazioni della colonna vertebrale. Per quanto riguarda le articolazioni della colonna vertebrale, per il momento una panoramica, voi dovete conoscere i dischi intervertebrali, dei legamenti molto importanti, quali il legamento longitudinale anteriore e quello posteriore, il legamento sovraspinoso, i legamenti interspinosi, i legamenti gialli, i legamenti intertrasversali e il legamento nucale, poi pian piano vedremo. Allora, in questa immagine molto didattica potete vedere già comunque in ogni caso i dischi intervertebrali e quanto sono importanti, perché ammortizzano, sono praticamente dei veri e propri ammortizzatori, solo che sono degli ammortizzatori voluti dalla natura, da colui che ha fatto l'essere umano. Sono presenti tra i corpi vertebrali delle vertebre, come vedete corpo vertebrale, corpo vertebrale e è presente il disco intervertebrale. Tra tutti i corpi vertebrali delle vertebre sono presenti dischi intervertebrali? No. Questo lo sapete già da precedenti lezioni che vi ho fatto quando vi ho parlato della colonna vertebrale e delle vertebre. Comunque, in ogni caso, un disco intervertebrale, ecco, unisce, oltre a unire il corpo vertebrale di una vertebra superiore con quello di una vertebra inferiore, che cosa fa? Appunto, ha la funzione di ammortizzare e per questo deve avere tutta una struttura chimica ben precisa, tessutale, e poi da un punto di vista chimico, se andiamo dal livello tessutale al livello cellulare e poi al livello chimico, ecco, dal punto di vista chimico deve avere una struttura ben precisa per poter agire da ammortizzatore. Non può essere una struttura rigida. Stiamo parlando di sintesi. I dischi intervertebrali è essenzialmente una struttura fibrocartilaginea. Come è costituito? Immaginate una sezione trasversale, qui lo vedete, e dall'alto verso il basso, vedete che abbiamo una regione periferica e un nucleo, che in realtà non è proprio centrale, ma è un attimino più discostato e poi il discostamento dipende dalle varie vertebre. Comunque non è proprio precisamente al centro. Un nucleo polposo. Questa regione periferica prende il nome, cioè è essenzialmente un anello fibroso formato principalmente da cartilagini, formato principalmente da collagene.